Ti saluto con la pace del Signore e che Dio benedica la tua vita e che Dio benedica l'intera tua famiglia. Oggi 22 marzo 2022 siamo grati a Dio per essere ancora qui e poter ascoltare questo meraviglioso messaggio della parola di Dio. Voglio rispondere a una domanda che mi hanno fatto un paio di persone. Mi hanno detto dice ma sempre la giacca porte e magari qualcuno vedendo il video di mattina alle 6, 6 e mezza è sempre un po' in giacca sempre con la giacca oppure cravatta addirittura. Allora voglio dirti una cosa io devo tenerla per forza la giacca sai perché? Perché altrimenti il microfono non saprei dove metterlo capito? Quindi quando uso il maglione o qualche altra cosa devo andare a trovare il punto dove appendere la mollettina del microfono. Comunque ecco la giacca la uso principalmente per questo ma poi la uso anche perché mi piace vestire così e quindi la uso per questo. Ecco detto ciò chiudo subito questa parentesi e ci rivolgiamo alla parola di Dio che oggi dice proprio così. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Lettera di Tito capitolo 2 verso 2. Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizia io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì vi porterò e vi salverò. Libro di Isaia capitolo 46 verso 4. Il titolo di questa meditazione biblica è questa. Alla sera della vita. Sto invecchiando signore aiutami a rimanere modesto a non credere che la mia esperienza mi permetta di avere un parere indiscutibile su tutto. Concedimi di essere saggio nelle mie valutazioni delle circostanze e anche delle persone. Fa che non diventi un personaggio triste, austero, teso, sempre rivolto al passato, al contrario, che io possa essere un esempio di pazienza, di dolcezza e di comprensione. Concedimi di accettare sempre di più i tuoi insegnamenti. Dammi il coraggio di farli conoscere e soprattutto di viverli in questo mondo sconvolto, senza punti di riferimento e senza nessuna speranza. Aiutami soprattutto ad imitare l'esempio di amore vero e di amore disinteressato che tu hai lasciato. Signore, fa che la lettura della Bibbia sia per me non l'adempimento di un dovere compiuto senza gioia, ma piuttosto la sorgente alla quale attingere per rinnovarmi ogni giorno. Signore, rendimi più sensibile ai bisogni di coloro che mi circondano, siano essi la mia famiglia, i miei vicini o chiunque attraversi la sofferenza, rendendomi capace di pregare per loro con perseveranza. Signore, aiutami ad aspettare non la morte per essere liberato dai miei tormenti, bensì il tuo ritorno che è vicino come tu hai promesso. Dice cosa hai letto, cosa hai raccontato? Semplice, è una lettura di una persona che ha fatto delle richieste a Dio e se avrai potuto notare, sono delle richieste di una persona che innanzitutto è nata di nuovo, vive nella fede, ha un vero e proprio rapporto personale con Dio e le richieste che gli fa, se avrai notato, non sono richieste puramente egoistiche, concentrate solamente su se stesso, sono concentrate su se stesso in relazione agli altri, non sono richieste egoistiche. In questi giorni ho parlato con un fratello che mi ha detto che non riesce a pregare per se stesso o comunque non riesce magari a trovare il tempo per pregare per se stesso. Eppure io gli ho detto è un qualcosa che bisogna fare. Io ad esempio lo faccio ogni mattina. Le mie preghiere quando mi sveglio, quando inizio la giornata, non sono per gli altri. L'inizio della mia giornata sono preghiere rivolte alla mia vita. Come questo fratello che ha scritto questa meditazione, anche io rivolgo delle preghiere a Dio per me stesso. Quindi Signore aiutami a leggere di più la Tua parola anche oggi. Aiutami a trovare il tempo per meditarla. Aiutami a trovare un buon tempo di preghiera per me stesso e anche per gli altri, per intercedere. Signore aiutami a essere utile nell'opera tua, anche oggi, lì nel posto di lavoro, fa che i miei occhi siano aperti per vedere chi è nel bisogno, chi è nella sofferenza. Proprio ieri mi è capitato che sono andato al lavoro, ho visto un mio collega che era un po' triste. Allora gli ho chiesto come stai, ma glielo ho chiesto in un modo, gli ho fatto capire che avevo capito qualcosa e lui mi ha detto grazie che me l'hai chiesto. Sto benino e anche male. E' stato sincero. In quel momento non ho avuto modo di approcciare con lui, però già il fatto che sia aperto mi permetterà, in uno di questi giorni, di fermarmi con lui e parlargli dell'amore di Gesù. Quindi ricerchiamo la santificazione, ricerchiamo la benedizione di Dio e ricerchiamo la pienezza dello Spirito Santo. Perché se riceviamo questa, se veniamo riempiti di Spirito Santo, non guarderemo più solamente a noi stessi, ma guarderemo agli altri con gli occhi di Gesù. Abbiamo bisogno di potenza che viene dall'alto. Quindi questa mattina uniamoci a questo fratello e a questa meditazione e chiediamo Signore, riempimi di Spirito Santo e fa che possa essere utile, uno strumento utile per la tua gloria in questo giorno, attraverso tutti gli strumenti che mi metterai davanti, al lavoro, col telefonino, con YouTube, con i social, con una telefonata, con una visita, con qualsiasi cosa, ma fa che la tua e la vita possa essere un esempio di dinamicità, come lo era Gesù d'altronde. Siamo cristiani, no? Quindi cerchiamo di imitare Cristo. Dio ti benedica e ci vediamo domani al solito appuntamento. Ti saluto con la pace di Gesù.